Ciao a tutti, benvenuti in questo mio primo approccio a un format tipo podcast in cui parlerò per un esteso periodo di tempo, quindi sedetevi o fate le vostre faccende e ascoltatemi molto bene, perché parlerò per molto tempo. E lui è il mio co-host, ve lo presento, presentati, non si presenterà da solo, perché è un peluche, è chiaramente un peluche ragazzi, non ci giriamo intorno. Dunque parlerò del mio primo approccio all'amore, è un tema molto delicato per me l'amore, perché è un tema molto delicato e lo potrete capire proprio da questa storia che vi sto per raccontare, che mi piacerebbe molto fosse inventata, ma purtroppo è la mia storia, è il mio primo approccio con un ragazzo che mi è piaciuto, il primo ragazzo di cui, non so se fosse amore quello, la definirei più una cotta, secondo me il mio primo vero amore è il ragazzo con cui sono tuttora, con cui sto da quasi cinque anni, però ecco, è la mia prima esperienza amorosa, adesso capirete perché non so se lo definisco il mio primo amore. Ho deciso di parlare di questo tema come primo, semplicemente perché ho tanto di cui parlare riguardo a questa storia e non ne ho mai parlato così approfonditamente con nessuno in realtà. Ho bisogno di tirare fuori questa storia e di parlarne con qualcuno, in realtà in questo momento sono a casa da sola con un peluche, accanto a me non sto parlando veramente a nessuno, però sapere che qualcuno vedrà questo video mi fa sentire come se ne stessi parlando a qualcuno, d'accordo? Quindi non siate cattivi per favore. Era il lontano 2016 mi sembra, credo di aver iniziato le superiori nel 2016, io sono andata all'istituto Roberto Rossellini di Roma, che è una scuola di cinematografia. Il primo giorno di scuola io non sapevo ancora con chi stessi in classe, sapevo solamente i loro nomi ma non le loro facce, quindi ci ritroviamo il primo giorno di scuola, tutti ammassati fuori dall'ingresso della scuola e stavano facendo appunto l'appello per comporre le classi. Io mi invaghisco subito di un ragazzo, tra tutte quelle persone ammassate saremo state non so quante centinaia di persone, mi invaghisco di questo ragazzo con dei pantaloncini blu, una maglietta polo arancione con il colletto bianco, le warage, non so se si pronunci così però avete presente quel tipo di Nike, le Nike warage, arancioni e bianche, il colore dello zaino non me lo ricordo, mi sfugge questo dettaglio, però era vestito esattamente così, con una fasciatura sul naso, come se si fosse operato il naso, avete presente? Proprio tutto incerottato sul naso. Già sapevo che mi piaceva quel ragazzo, dal primo istante in cui l'ho visto mi piaceva quel ragazzo. Quando poi hanno composto la mia classe, si è unito alla mia classe e io ero felicissima, ero troppo contenta. Allora considerate che io prima di questa esperienza non ho mai avuto una vera relazione o chissà che, io sono sempre stata pure alle elementari e alle medie, sono sempre stata tipo la ragazza simpatica che ride e scherza con tutti, femmine, maschi, ma che poi sono amata da tutti ma da nessuno. L'ho sempre patita un po' questa cosa in realtà, mi sento ancora tuttora così, amata da tutti ma da nessuno, cioè... Vabbè su questo magari poi ci ritorneremo, insomma stiamo nella stessa classe. Tra l'altro, piccola parentesi, si era rotto il naso perché era andato qualche giorno, settimana prima, sui tappeti elastici e si era data una ginocchiata da solo sul naso. E questo dice già molto di lui, ok? Potete anche chiudere qui il video e saprete già il resto della storia. Io mi sono innamorata di uno così dal primo giorno di scuola, con il naso fasciato perché se l'hai rotto da solo con una ginocchiata. Vabbè, andiamo avanti. In quella classe io non conoscevo nessuno, a parte un mio amico che è stato mio compagno di elementari e medie, ma non in classe insieme. Abitavamo nello stesso paesino, eravamo amici, siamo andati a questa scuola insieme, però non avevo neanche un rapporto così stretto con lui. Eravamo amici, nulla di che. Quindi io in classe non conoscevo nessuno. Abbiamo iniziato a legare a gruppetti, come normale che sia in ogni classe, e appunto nel mio gruppetto c'era anche lui. Non so se dirlo il nome, no, non gli voglio dare questo potere. Certo ci sto facendo il mio primo episodio tipo podcast a parlare solo di lui e non voglio dire il suo nome, no. Questo no, questo no, non cadrò così in basso. Lo chiameremo Cacco. Dunque io e Cacco cominciamo a fare amicizia, ma sin da subito c'era quella chimica, quella sintonia. Lui mi prendeva in giro, io ridevamo insieme ed era questa la cosa che mi piaceva di più di lui. Era proprio che era molto simpatico, sia con me che con gli altri. Era molto simpatico, molto attivo, proprio tanto, un po' troppo. Ed era una persona che mi dava molte attenzioni, mi dava molto spago. Mi faceva sentire vista ed era una cosa che, come dicevo, non mi faceva percepire nessuno. Perché mi sentivo, mi sono sempre sentita amata da tutti, ma da nessuno. E lui invece mi faceva sentire vista, mi dava proprio attenzioni che io cercavo disperatamente in ogni essere umano, fottuto. Tutto ora è così, purtroppo. Ci sto ancora lavorando, vado in terapia. Lo dico in ogni video, però vado in terapia. All'inizio quindi scherzavamo molto. C'era quella sorta di flirt, no? Continuo, scherza, ridi, sguardi. Quindi all'inizio era tutto un flirt costante. E sapevamo entrambi che a me piaceva lui e a lui piacessi io. Piacevo... ho sbagliato tutti i verbi, vabbè. Sapevo che a io... a me piacevo io e a lui gli piaceva lui. Quindi non c'è mai stato niente tra noi. I fini del video. Ci piacevamo entrambi. Quindi abbiamo iniziato a prendere la metro insieme. Andavamo a scuola insieme. Ci facevamo il tragitto dalla metro a scuola insieme. E lui mi ha fatto approcciare al mondo della cannabis anche. Tra tutte le cose sbagliate che mi ha fatto conoscere. A cui mi ha fatto approcciare questo essere umano anche al mondo della cannabis. Quindi lui, prima di entrare a scuola con suo cugino, che era un mio amico molto stretto, con cui poi sono diventata amica durante il primo anno ovviamente, erano cugini. E io ero molto legata anche al cugino. Gli volevo proprio bene. Scherzavamo anche tanto con lui. Mi ricordo che prima di entrare a scuola, o a volte anche dopo scuola, ci fermavamo ad un parchetto a fumare. Io non fumavo. Ve lo dico. Io non fumavo perché ho sempre avuto paura del mondo della droga. Quindi io al massimo annusavo e per me bastava già quello. Oddio, annusare nel concetto della droga forse non è la cosa migliore, però avete capito. Aspiravo fumi tossici. E a me bastava quello. Però ecco, mi piaceva l'idea di questa persona trasgressiva. Era una persona... Ah, vi devo fare un quadro più completo su di lui. Lui stava sul cazzo a tutti i professori. Era maleducato. Non andava bene a scuola. Era un ignorante. Era solo simpatico. Era simpatico e mi dava attenzioni. Punto. Questo è quello che mi ha fatto invaghire di lui. E abbiamo continuato così tutto per il primo anno. Verso maggio, quindi scuola era iniziata a settembre, verso maggio noi abbiamo iniziato ad avere una relazione ma molto strana in realtà. La nostra... Io avevo paura. Io avevo paura di avere la mia prima relazione. Non sapevo baciare, non sapevo fare niente. Non lo so, io i ragazzi, come dicevo anche prima, sia con le ragazze che i ragazzi in realtà sono sempre stata quella che... piaceva ridere a tutti, piaceva a tutti ma a nessuno. Quindi io non andavo mai al dunque con nessuno. Poi vabbè che... A dieci anni non è che vai al dunque con qualcuno, però avete capito cosa intendo. Non c'era mai quella... Cioè, sì, ridiamo e scherziamo, poi... Capito? Fini da lì. Invece con lui sapevo che poi sarebbe arrivato il punto in cui ci saremmo dovuti baciare o anche solo abbracciare. Ecco, lui anche questo. Lui era molto fisico. Lui era molto fisico. Mi fece un succhiotto qui. Cioè, primo superiore, ma chi cazzo? Lui era molto fisico. A me piaceva molto che mi abbracciasse. A lui poi, un'altra cosa, ci provava un po' con tutte. Quindi non ero neanche l'unica. Ci provava con tutte. Trattava un po' tutte allo stesso modo. Ma io mi sentivo speciale. Non si sa per quale cazzo di motivo come ho fatto a... Io ho avuto per tutto questo tempo il prosciutto sugli occhi. Ma strati e strati di prosciutto. La coscia intera del maiale. Lui faceva apprezzamenti fisici su ogni ragazza. Se aveva un bel culo, se aveva delle tette, lui la guardava, la squadrava, diceva che bona, che sorca. Perché siamo a Roma. Contestualizziamo anche questo. Quindi con lui ho avuto anche le prime esperienze in questo senso. Cioè, a lui mi toccava le chiappe. Se mettevo i leggings, ovviamente li mettevo solamente per lui per far vedere le mie chiappette. L'abbiamo fatto tutte, ragazze. L'abbiamo fatto tutte, io lo so. Mettersi in mostra per piacere ai ragazzi. Purtroppo. Purtroppo. Perché ci sentiamo costrette a dover mostrarci belle o mostrare le nostre parti considerate attraenti dai maschi per sentirci apprezzate. io ho smesso di farlo grazie a Dio perché sono in una relazione sana da cinque anni non mi frega più un cazzo. Io vado in giro per casa struccata. Che puzzo come una merda con i peli ovunque. Non mi frega più niente di questa cosa e sono molto felice che sia così. Però ecco, c'è stata questa fase della mia vita che è durata un po' tanto in cui appunto mi mettevo in mostra per piacergli. Quindi arriviamo a maggio dicevo e c'è il nostro primo bacio. Lui era da un po' che voleva approfondire la nostra relazione stare insieme e siamo stati insieme una settimana. Una settimana perché poi io avevo paura a stare insieme a lui. Ma nel senso che proprio in una relazione avevo paura a stare in una relazione a baciare tutto quel mondo mi spaventava. Sentivo di avere troppe aspettative su di me. Capito? Non so come spiegarlo bene. Però sentivo di non essere all'altezza per quello che lui voleva o abbastanza. Ci siamo dati il nostro primo bacio in classe tra l'altro breve parentesi sul nostro primo bacio eravamo in classe e appunto era una scuola di cinema quindi stavamo vedendo un film era non mi ricordo che materia però eravamo in una classe buia con il proiettore stavamo vedendo un film un po' imbarazzante questa scena. Eravamo vicini di banco io mi sono messa così sul banco tipo per dormire ok con le braccia concerte così e lui idem accanto a me questa scena fa ridere ma può essere stato questo il mio primo bacio da così ogni tanto alzavamo la testa e ci guardavamo ci guardavamo piano piano ci siamo avvicinati ma da così con le braccia concerte e ci siamo dati il nostro primo bacio così ed è stato un po' strano perché avevamo anche i compagni di classe intorno che ci guardavano ah lui poi aveva già avuto altre esperienze prima di me quindi io appunto per questo mi sentivo un po' mi sentivo indietro perché poi lui lui parlava molto di altre ragazze sempre in realtà parlava delle sue altre relazioni di quanto lui fosse piacesse alle ragazze del fatto che lui avesse già avuto rapporti quindi io mi sentivo sempre inferiore lui ha proprio innescato in me lui è stata la prima persona nella mia vita che ha innescato in me questo senso di inferiorità profondissimo che tuttora mi porto dietro io mi sentivo sempre più brutta delle altre ragazze mi sentivo sempre meno capace delle altre ragazze perché nonostante noi scherzassimo molto lui era anche molto molto bullo nei miei confronti mi faceva spesso notare sempre in modo scherzoso ma sapete quell'ironia velata da lo penso davvero mi faceva notare spesso quanto avessi le cosce grandi quanto le altre ragazze erano più belle di me quanto le altre ragazze più che belle di me fossero più sexy di me perché io non ho mai avuto quel sex appeal che hanno le ragazze achittate che si prendono cura di sé io sono sempre stata veramente io vengo dalla campagna non che questo centri qualcosa però a me non è mai fregato nulla di essere una di quelle ragazze che rispetto totalmente le ragazze che sono così semplicemente io non sono mai stata così ma con lui mi sentivo in dovere di essere come le altre ragazze io non sono mai stata così mai sono sempre stata quella che a me è sempre solo piaciuto scherzare essere quella simpatica ma non per qualche strano motivo perché sono io io sono sempre stata un maschiaccio sotto questo punto di vista sono sempre stata quella che si mette i pantaloni larghi la maglietta larga la maglietta sporca per andare al mare perché non mi metto il come si chiama il pareo capito non sono mai stata una di quelle ragazze ragazze non so se mi state capendo non mi ha mai fregato niente di essere super acconciata super perfetta super truccata ho sempre fatto il minimo indispensabile sono sono sempre stata un maschiaccio e non che questa cosa sia negativa però lui me la faceva pesare tantissimo e questa cosa ha creato in me un senso di inferiorità e insicurezza assurdo cioè io in realtà le ragazze che hanno il sex appeal con le ragazze belle che dicevo wow amo le donne io le ho sempre venerate ma lui mi ci ha messo su un piano di sfida non so come dirlo che io vedevo queste ragazze dicevo le amavo dentro di me ma dicevo devo essere anche io così perché io non sono così perché io non sono la ragazza che i ragazzi pensano che sia sexy io voglio essere la ragazza considerata sexy voglio essere la ragazza che quando i ragazzi passano dicono mamma mia che buona questa io non sono mai stata questo tipo di ragazza io sono sempre stata quella che i ragazzi dicono simpatica carina punto e lui questa cosa me l'ha fatta patire tantissimo ha creato in me delle insicurezze profondissime che tuttora mi porto dietro riguardo al mio aspetto fisico e al mio essere me in realtà se io non avessi mai incontrato lui sarei rimasta la stessa senza farmi troppi problemi avrei comunque venerato le ragazze con il sex appeal sexy ma sarei stata apposto con l'essere me stessa e adesso è una cosa che mi riesce sono migliorata molto però mi riesce sempre un po' difficile perché dico madonna però perché sono così come se poi le ragazze che hanno il sex appeal siano meglio di altre nel senso siamo tutte ragazze abbiamo tutte gli stessi presupposti per essere delle ragazze siamo tutte belle diverse perché una ragazza che si veste in modo maschile ma neanche maschile comodo diciamo così deve essere considerata meno ragazza di quella che si veste in modo sexy odio questa cosa e lui è stata la prima persona che mi ha fatto rendere conto di quanto questa cosa fosse invalidante per me quando per me era la normalità essere me io sono sempre stata a posto con l'essere me non avevo bisogno di essere la ragazza sexy per forza potevo essere me e basta volevo essere me e basta però ecco lui mi ha innescato questo senso di insicurezza e di inferiorità rispetto alle altre ragazze io volevo essere come le altre ragazze mi ricordo anche su questa parentesi della mia vita mi ci prende in giro ancora tuttora Rebecca l'avrete vista già sul canale il mio periodo da Bora per chi non è di Roma le Bore sono considerate diciamo le ragazze che si vestono un po' più da coatte coatta è sempre un termine romano come posso dire cercatelo non so veramente come descrivere Bora è il corrispettivo dei Maranza ma al femminile coatti come si dice non lo so c'è stato un periodo in cui io ho iniziato a vestirmi e a comportarmi come una Bora perché erano le ragazze che piacevano a lui lui è di Roma Sud e a Roma Sud appunto è molto etichettata stereotipata come romani Bori a Roma ci sono due fazioni i Bori e i Pariolini i Pariolini sono quelli scicchettosi con non volevo aprire questa parentesi però è per far capire ancora di più quanto sia stato imbarazzante quel periodo della mia vita e è giusto che Rebecca mi ci prenda ancora in giro i Pariolini sono quelli scicchettosi più ricchi più adagiati più borghesi i Bori sono quelli più coatti più non so come definirli i Bori lui abitando a Roma Sud era circondato da ragazze di questo tipo gli piacevano ragazze di questo tipo e io per un periodo ho detto fanculo io non voglio più essere me io voglio essere una Bora una Bora poi di campagna perché io non abitavo a Roma Sud io non ho mai abitato a Roma ho sempre abitato in un paesino in Culandia poco fuori Roma ma io volevo essere una Bora quindi ho iniziato a vestirmi come una Bora a comportarmi come una Bora come piaceva a lui e indovinate anche facendo questa cosa non gli sono mai piaciuta anche cambiando me stessa non gli sono comunque mai piaciuta è stato un periodo molto imbarazzante molto ci sono delle foto terribili di me di quel periodo terribili non voglio neanche più guardarle non voglio non ero io in quel periodo volevo solamente piacere a lui quindi ecco lui metteva sempre prima le altre ragazze lui poi mentre ci provava con me a scuola sapevo che ci provava anche con altre che usciva con altre che si baciava faceva sesso con altre ma a me non fregava nulla a me bastava che quando entrava in classe mi trattava come sempre e io ero al centro dell'attenzione con lui e mi sentivo apprezzata anche se era la stessa cosa che faceva con tutti io mi sentivo mi ama è chiaro che mi ama e io sono innamorata oltre al primo bacio poi durante l'anno ci sono stati tipo dei sottospecie di festini a casa di una mia compagna di classe che è stata la mia migliore amica per il primo e il secondo anno anche lei è stata una delle persone che mi ha creato più problemi della mia vita mi ha creato anche lei un senso di insicurezza e di inferiorità tremendo ma questo forse sarà un altro video a parte su lei lei organizzava ogni tanto questi festini a casa sua e ce ne sono stati appunto alcuni in cui io e Cacco abbiamo fatto le nostre prime esperienze non andando al sodo ok non voglio entrare troppo nei dettagli però appunto a queste festi feste non erano festini tipo quelli dei film dei college no erano cagate però appunto si era creata questa situazione tra me e lui e c'erano stati dei momenti così quindi io ho avuto anche le mie prime esperienze con lui io sentivo che volevo farle con lui le prime esperienze nonostante avessi comunque paura però a me piaceva lui volevo farlo con lui anche se sapevo di essere un oggetto per lui un cazzo di oggetto ero completamente cieca a come mi trattava mi mandava costantemente segnali contrastanti un giorno gli piacevo un giorno parlava di un'altra ma a me non fregava perché aspettavo solo il giorno in cui poi gli ritornassi in mente io mi scriveva che ero la donna della sua vita ma poi usciva con altre ragazze si baciava con altre ragazze who cares non avevo amor proprio dentro di me quindi mi andava bene tutto come avrete capito ci sono stati tanti tira e molla tra me e lui e quando era finito il primo anno delle superiori c'era anche lì una specie di stavamo insieme ma non stiamo insieme non si capiva mai un giorno lo chiamai era finita a scuola io tra l'altro avevo il terrore io non riuscivo a vivere sapendo che lui forse sarebbe stato bocciato io sono stata malissimo quell'estate malissimo perché sapevo che sarebbe stato bocciato ma non riuscivo ad accettarlo quindi un giorno d'estate ancora non sapevo se fosse stato bocciato quindi erano proprio gli ultimi giorni di scuola slash i primi dell'estate lo videochiamo ero con degli amici amici e amiche all'oratorio tra l'altro ma quando fossimo 11 a casa all'oratorio che stavamo ridendo e scherzando io l'avevo videochiamato lui mi fa ma con chi sei? mi ha bloccato per tutta l'estate mi ha bloccato per tutta l'estate poi ho ricevuto la notizia che lui era stato bocciato e sono stata malissimo io penso che quell'estate ho pianto e basta ho pianto tantissimo mi sfogavo con il cugino mi sfogavo con un altro compagno di classe mi dicevo ma perché perché è stato bocciato il nostro amore non può finire così reagì molto male alla sua bocciatura la presi molto sul personale inizia il secondo anno e lì inizia la mia fase stalking perché lui ovviamente aveva cambiato classe essendo stato bocciato e io iniziai stalkerare tutte le ragazze con cui si trovava in classe le sue ex ogni ragazza che gli orbitasse intorno io la stalkeravo sapevo nome cognome dove abitava se c'era stato insieme se non c'era stato insieme tutto se gli piaceva se non gli piaceva tutto sapevo e in quel periodo io per assurdo faccio amicizia con la sua ex amicizia condividevamo gli stessi traumi la stessa persona si era comportata nello stesso modo con tutte e due ma penso con chiunque quindi condividevamo gli stessi mostri abbiamo fatto amicizia e poi si rimettono insieme e io lì un giorno mi ricordo che forse le scrissi o non so la chiamai e la misi al corrente di tutte le ragazze con cui cacco si trovava in classe e di come lui si comportava con loro perché non ero in classe con loro ma magari a ricreazione mi capitava di vederlo e stalkeravo l'occhio era sempre lì la misi al corrente di alcune ragazze che appunto si trovavano in classe con lui che a mio giudizio da attenta stalking secondo me c'era qualcosa tra di loro e da lì il putiferio perché queste due ragazze di cui io avevo messo al corrente la sua ex vengono a farmi brutto perché la sua ex aveva detto a cacco di queste due ragazze e che gliel'avevo detto io cacco l'ha detto a me e l'ha detto anche a quelle che stavano in classe con lui quindi queste due sono venute a farmi brutto sono venute a farmi brutto giuro in due una era un cristone gigante io avevo una paura fottuta quando mi si è presentata quella l'altra era più bassa di me quindi c'è stato questo evento canonico lo ricordo col sorriso perché mi fa troppo ridere cioè io mi sono messa in mezzo a sta storia mi dovevo stare zitta mi sono messa in mezzo a sta storia senza motivo no vabbè sì senza motivo e mi sono venute pure a fare brutto mi hanno preso da parte in corridoio e me ne hanno detto di tutti i colori io così stavo mi sono cagata sotto quel giorno perché non so se anche voi ma nel periodo delle superiori se non sei tipo una ragazza che sa menare o che è considerata una ragazza di cui avere paura una ragazza che sa menare io ho sempre avuto ho sempre percepito questa cosa che le ragazze superiori erano quelle che considerate manesche ragazze di cui avere paura con cui non litigare perché se ci litichi vengono e ti riempiono di botte ecco io ho sempre avuto paura di questa ragazza perché io ho sempre avuto paura di menare io ho sempre oddio quegli scenari mi hanno sempre fatto chiudere il culo mi hanno sempre fatto cagare sotto perché ho detto pensa se succede a me io che cazzo faccio che poi io sono una che io non riesco neanche ad immaginarmi in una situazione del genere sono cresciuta in un ambiente in cui per tanti motivi magari di questo ne riparlerò perché è un argomento a parte sono cresciuta paziente proprio io voglio stare lontana da ogni possibile litigio io non voglio litigare con nessuno io non voglio che si arrivi ad alzare la voce non voglio evito in tutti i modi di arrivare a quel punto perché ho paura di quelle situazioni quindi quando è successa questa cosa mi sono cagata sotto poi però io quando faccio i sogni mi sogno che so menare come un bastarda meno fortissimo invece quando si è presentato alla prima occasione stavo così sì sì no avete ragione scusate è che io volevo solamente sai no avvertire lei perché avevo paura una caga sotto un cane con la coda in mezzo alle gambe quella ero io quindi tra me e cacco si era creato un rapporto molto strano lui poi si lascia di nuovo con la sua ex e ricominciamo a parlare io sempre là eh io sempre là così ti prego aspetto il momento che torni da me sono qui ad aspettarti non ho niente di meglio da fare che aspettare un bastardo pezzo di merda come te affanculo quindi appena si lascia di nuovo con la sua ex ritorna da me cominciamo di nuovo a riparlare un po' così e riusciamo una volta io prendo metro treno tutto faccio a piedi vado da lui non a casa sua però in zona sua che da casa mia l'aereo devi prendere l'ho fatto l'ho fatto per riuscirci una volta ed è stata un'uscita stranissima stranissima quest'uomo mi ha bullizzato non in quell'uscita in generale nel nostro rapporto era lui che bullizzava me e io che me ne ero innamorata di lui che mi bullizzava cosa cosa ci trovavo usciamo e quest'uscita è stata veramente strana mi sentivo mi sono sentita un oggetto in quest'uscita mi aveva preso da parte io tra l'altro quel giorno avevo il ciclo stavo con l'assorbente mi aveva preso da parte mi aveva portato in un posto nascosto un po' allosco e voleva provare a andare oltre ma io avevo una paura perché sta succedendo questo quindi poi alla fine non è successo niente perché sono stata brava io a respingerlo e da lì ci sono continuati ad essere questi tira e molla strani segnali contrastanti sembrava che mi volevano poi mi odiava mi schifava gli facevo schifo poi mi se ci beccavamo in corridoio scherzava con me poi non mi cagava di striscio non mi scriveva niente nulla il nulla e io ero sempre lì a mangiarmi quelle briciole che lui mi dava passa così il secondo anno in tutto io comunque stavo male perché lui non stava più in classe con me questo più o meno è stato il secondo anno finisce il secondo anno d'estate verso la fine dell'estate cominciamo a riscriverci sembrava proprio che lui ci volesse tornare volesse stare con me ovviamente sempre tra tante virgolette quella era la mia prospettiva completamente distorta della realtà cominciamo a riscriverci lui tra l'altro era a pug mentre lui mi scriveva che voleva stare con me che mi amava che ero stupenda cose così mentre lui mi scriveva queste cose era a pug in discoteca che pubblicava video in cui si baciava con altre in discoteca che ballava che le ragazze gli ballavano addosso io facevo gli screen di queste cose glieli mandavo e lui non mi dava mai spiegazioni si rigirava sempre la frittata a modo suo e io sempre lì che accettavo tutte queste cose da questo periodo di fine estate fino ad ottobre continuiamo a sentirci un po' non si capiva che situazione era io ormai mi ero messa l'anima in pace verso l'inizio del terzo superiore mi ero messa l'anima in pace sapevo che basta però volevo chiudere in bellezza tutta questa storia sapevo che io la mia prima volta l'avrei voluta fare con lui mi volevo togliere questo sfizio sono passati tre anni di calvario almeno chiudo in bellezza vado al sodo il 31 ottobre del 2018 lo invito a casa mia mi era organizzata in tutti i modi che non ci fosse né mia madre né mia sorella lo invito a casa mia lui tra l'altro un coglione patentato non fa il biglietto per il treno io gli avevo detto guarda lo devi fare perché su quel treno c'è quasi sempre il controllore sapevamo entrambi che quel giorno sarebbe accaduto quello che sarebbe accaduto volevo chiudere quella situazione basta almeno ci metto un punto a questa storia e finisce così almeno io ho pure fatto la mia prima volta che c'ho una paura fottuta almeno con lui ormai me l'ho tolta lo faccio con lui punto sapevo che era la persona sbagliata ma sapevo che era la persona giusta per fare quella cosa lui non prende il biglietto del treno e si ritrova il controllore sul treno alla prima fermata lo fanno scendere e lui deve aspettare tipo un'ora per il treno dopo quindi a me tutti i piani che mi ero fatta mi erano saltati e quando andiamo a casa c'era mia sorella lo vado a prendere alla stazione andiamo a casa e succede quello che deve succedere tra l'altro è stato terribile terribile tu dici oh la mia prima volta voglio che sia da sogno terribile è stata schifosa ma almeno avevo messo un punto ah tra l'altro questo uomo coglione patentato senza palle mentre stava per succedere la nostra prima volta mi dice che non aveva le precauzioni non aveva le precauzioni questo uomo quindi abbiamo dovuto interrompere tutto quanto uscire perché io va bene che sono stupida ma col cazzo usciamo andiamo dai cinesi io ho detto adesso le compri adesso compri queste cazzo di precauzioni mi hai rotto il cazzo cioè non ti sopporto più non le voleva comprare si vergognava quindi sono andata io sono entrata in questo cazzo di negozio di cinesi che mi conoscevano perché vado andavo sempre lì entro in questo negozio di cinesi e a testa bassa imbarazzatissima compro questi profilattici torniamo a casa e si ricomincia e succede quello che deve succedere capite con chi ho avuto a che fare io per tutto questo tempo che cazzo ho fatto perché lo riporto alla stazione dentro di me c'era ancora un bricio di speranza che potesse volermi ma da questa cosa ho capito basta è finita non tornerò più da questo uomo se si può chiamare così dopo averlo riportato alla stazione stava per salire sul treno e mi saluta con un bacio sulla guancia dopo aver appena fatto la mia prima volta con te mi saluti con un bacio sulla guancia dopo questo evento tra di noi è finito tutto tutto non ci siamo più parlati più niente ogni tanto se ci vedevamo ci salutavamo ma finito quello è stato il punto a tutto ed ero contenta crescendo ho iniziato a eliminarlo dalla mia testa ciò che mi ha lasciato oltre a schifo e ripudio è una ferita gigante a me ha lasciato una ferita gigante che io ancora sto cercando di risanare e che purtroppo ancora si ripercuote sulla mia relazione attuale tutte le mie insicurezze il mio senso di inferiorità la mia paura di non essere abbastanza si ripercuotono ancora in tanti dei rapporti umani che ho soprattutto nella mia relazione nonostante il mio ragazzo attuale mi faccia sentire apprezzata in ogni modo amata in ogni modo sotto di me c'è sempre quella paura velata che sembra niente riesca a farmela andare via anche vivere un amore sano da 5 anni ormai non mi fa andare via questo senso di inferiorità e di insicurezza che mi ha inciso che mi ha scalfito alcune parti di me ma perché è una cosa che devo risanare io con me stessa non dipende da la persona con cui sto adesso io so ad occhi chiusi potrei mettermi no la mano sul fuoco tutta sul fuoco so che la persona con cui sto mi ama sto in una relazione bellissima sanissima c'è fiducia c'è rispetto c'è amore c'è tutto tutti i requisiti per essere una relazione sana c'è supporto scusate io ho ritrovato me stessa con lui mi ha aiutato a credere in me tantissimo nessuno mai ci era riuscito prima di lui nessuno mi ha fatto scoprire parti di me che non conoscevo mi ha mi ha aperto il cuore ma ci sono queste ferite ancora dentro di me che è difficile risanare o forse ci sono sempre state da sempre ma cacco me le ha ingigantite ha proprio preso queste ferite già aperte e le ha scavate ancora di più con tutte le sue forze perché alla fine sono sempre stata molto insicura ho sempre avuto tantissimo questo senso di inferiorità ho sempre cercato approvazione negli altri e questo mi ha portato proprio a tra tante virgolette innamorarmi di una persona come cacco che era la reincarnazione perfetta di tutte le mie debolezze e ricerca di approvazioni oh no tutte le prese in giro da parte sua tutte le cose che mi diceva tutte le cose brutte che mi ha detto riguardo al mio fisico tra l'altro questa cosa del fisico si è anche protratta negli anni oltre a lui ci sono stati anche altri compagni di classe che mi hanno preso in giro per tanto tempo per il mio fisico per le mie cosce in particolare e oltre a loro anche quella che era la mia migliore amica mi hanno preso tanto tanto in giro per il mio fisico per le mie cosce perché avevo le cosce grosse le cosce grasse ero una balena polpetta e questa cosa tuttora me la porto dietro non volevo romanzare questa cosa basta smetto di parlare delle mie insicurezze sul mio fisico chiaramente adesso non mi importa più niente di cacco ed è anche per questo che a inizio video ho detto che non so se lo considero il mio primo amore perché che amore è il vero amore è quello che sto vivendo adesso quindi io lo considero solamente il mio primo approccio all'amore a quel mondo lì ma non è stato il mio primo amore quello che io considero amore è quello che sto vivendo adesso è stata solo un'esperienza che ha lasciato un segno dentro di me e io purtroppo per questo motivo lo sogno ancora questo bastardo non sto scherzando lo sognerò due volte a settimana sono tormentata da lui anche nei sogni ed è successo tra l'altro l'universo vuole farmi capire c'è ancora una lezione che non ho imparato forse da tutta questa storia l'estate scorsa l'estate del 2023 ero andata a Roma a farmi una passeggiata da sola e l'ho visto l'ho rivisto lui su un monopattino con un suo amico quel giorno tra l'altro non ero neanche al massimo ero andata a Roma a farmi questa passeggiata lo vedo passare e ha rievocato in me tutte quelle sensazioni brutte di cui vi ho parlato finora mi sono risentita come la me del secondo superiore sono tornata cinque anni indietro l'estate scorsa proprio mi sono sentita di nuovo riavvolta in tutte quelle brutte sensazioni sono stata malissimo quel giorno sono tornata a casa piangendo e forse non ho ancora imparato qualcosa da questa esperienza ancora non ho imparato a lasciare andare quello che mi ha ferito di questa esperienza cioè non ho forse non ho ancora imparato del tutto dal dolore che questa esperienza mi ha portato ho imparato qualcosa ma forse non tutto e in fondo io lui non lo odio lui è semplicemente stata una persona che io ho incontrato nella mia vita che è stata lì apposta perché io appunto doveva insegnarmi qualcosa non è non è successo a caso che io ho incontrato proprio una persona così è successo perché è venuta per insegnarmi qualcosa nella mia vita e poi se n'è andata quando quando la lezione era finita ma forse ecco non ho ancora imparato del tutto quello che voleva insegnarmi questa esperienza o forse sì non lo so non mi sento la stessa di quegli anni ovviamente anche perché non starei con la persona con cui sto adesso se non avessi imparato niente da quella vecchia esperienza starei con una persona come cacco invece sto con una persona che è neanche l'opposto è proprio un altro pianeta questa esperienza credo mi abbia fatto vedere proprio da fuori quanto le mie debolezze insicurezze si trasformano poi in ricerche di approvazione c'è proprio necessità bisogno disperato di piacere di sentirmi amata veramente da qualcuno e pur di sentirmi amata veramente mi facevo andare bene le briciole lo schifo la merda lui era proprio un regalo dall'universo una bella cagata di una mucca impacchettata benissimo un pacchetto bellissimo mai visto poi lo scarti e dentro c'è la merda e tu lo richiudi vuoi vedere solo il pacchetto vuoi vedere solo il pacchetto bello confezionato che bel regalo però quello che c'è dentro è merda ma quando sei disperato quando cerchi disperatamente qualcosa di bello amore ti fai pure andare bene solo il pacchetto la confezione l'esterno mentre ecco adesso ho imparato che il pacchetto può essere bello quanto ti pare ma poi c'è bisogno di altro per sentirsi amati cioè l'amore vero non è misere attenzioni commenti su quanto sia bello il tuo bucio di culo non è questo l'amore l'amore non può essere basato su prese in giro senso di inferiorità insicurezza e bisogno di colmare queste debolezze non può essere questo l'amore anche se ma io che cazzo ne so di amore io che cazzo ne so io ho 21 anni quasi 22 non ne so niente di amore sto ancora imparando non ne so niente ma sto solo cercando di capirci qualcosa è un po' complicato l'amore soprattutto per chi lo ricerca disperatamente ovunque comunque grazie per avermi ascoltato grazie per avermi fatto compagnia forse mi sono esposta un pelino troppo in questo video parlando di una tematica e comunque una storia un argomento molto delicato per me molto intimo però ho voluto farlo proprio perché volevo tirarlo fuori e basta volevo parlarne perché alla fine quando ne parli di qualcosa in qualche modo pesa di meno ha meno peso sicuramente editando il video mi renderò conto di quanto io non sappia parlare e non sappia comporre una frase di senso compiuto però è il mio primo approccio la mia prima prova di questo tipo di video in cui parlo mi impappino molto spesso ma spero che ne sia uscito fuori qualcosa altrimenti ho buttato un'ora e mezza della mia vita a parlare di una storia di merda datemi tempo per imparare e diventerò la più forte di tutti non ci sarà più competizione perché il mio cervello funziona così purtroppo sono un'insicura che però pensa di essere la più forte di tutti non sarei troppo cattivi se ci sono stati tanti errori e se non sono molto brava a dialogare e ad esporre un discorso ne sono molto consapevole ne sono molto consapevole mi odio per questo ma se non se non si prova a fare qualcosa come si può imparare d'altronde fidatevi di me perciò grazie ancora per avermi ascoltato per essere stati qua con me fatemi sapere se questo tipo di video in cui parlo di argomenti e cose vi può piacere ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao